ragazzi il video che non avremmo mai voluto fare però tutte le cose belle prima o poi finiscono e quindi Trash Stalker finisce qua ci udiamo l'attività i motivi finisce qua abbiamo voglia entrambi di di portare avanti delle cose vabbè io sinceramente vorrei ringraziare tutti i rapporti umani che abbiamo costruito in questo periodo perché per quanto mi riguarda oltre all'esperienza social dell'esperienza abbiamo cioè io personalmente ho tanti nuovi amici e questa è una cosa che non mi toglierò mai e sono contentissimo di avere e di aver fatto ci siamo divertiti come dei pazzi sostanzialmente è stato tutto fatto per questo ci siamo veramente divertiti un sacco come hai detto giustamente io mi sento di ringraziare tutti tutti quelli che sono stati sulla pagina io ho gestito la pagina del primo giorno e vi ho letti tutti ho cercato risposto a tutti è stato fighissimo ci avete dato un'energia devastante che ci ha portati fino qua grazie veramente grazie perché siete stati degli amici grazie a chiunque ci abbia cagato per un secondo Darione, Mismara, Mamoli, Soragna, Picchio Abbio, Fidel Castro, Peppe Beppe, Fidel Castro oh raga questa pagina rimarrà aperta come archivio se avete voglia di vedere due stranzate rimarrà aperta se no non pubblicheremo più niente questo è l'ultimo scavino che si fa così non così non così non così è arrivato molto così ragazzo così raga e voi non saprete mai che cazzo vuoi dire ciao raga ciao